Amawa, Maya Uso, arrivati in Giappone oggi a vedere questi esseri casi, oggi aver fatto un'ora di shopping, aver comprato pochi, camminare, venire, soffitti, botti, birre giapponesi, questo è niente, scaldarito, portaceneri, stecco marco, ho comprato 40 mili, progetto del mondo bianco, passo al bagno, questo bagni, guardate, tutti i pezzi unici, tutto plastica, un pezzo intero, viene sfornato così, guardate che non ci sono cinture, tutto uguale, bello eh? Poi scatti, questi sono i nostri cambi, guardate gli u, proviglie, stereo, ventilatori, avere questi, nessuno fa sedere, avere questo, chiuma da barbie, poi parti. Pochi coli giapponesi, primo giorno Giappone, io, cecco, preghiamo. Qui siamo alla zona imperiale, dove c'è il quadratto imperiale di Tokyo, che non è questo, ma è là dentro, ma si può entrare solamente due giorni l'anno, il 2 gennaio e il 23 dicembre. Vedete come sono informato, il calciaro però si sta aprendo, è passato cecco. Una squadra di giapponesi per il passaggetto. Due giapponesi su 0, una giapponese. Faccio notare, quella gru lassù, è un palazzo di tipo 30 piani, non si capisce come che cazzo ce l'hanno messa. Stiamo passando tutto sulle strisce in quest'area desolatissima, qui non c'è niente, nulla. Possiamo bere da queste cose. Notare questi alberi, completamente diversi dai nostri. L'ora di Tokyo, dove andremo stasera, si vede o non si vede, stasera si vedrà meglio. Vedete che la persona laggiù è lì immobile, non si muove, sarà a 40 gradi e ce n'è un'altra, dall'altra parte. Tra un po' si faranno passare una cicca. L'utilità hanno. Infatti non si sa neanche l'utilità. Qui c'è un cancello che non si può passare. Dovranno proteggere questa cosa qui dietro, che anti-upo non si sa. Sì, che giorno è? Il 10? 10 agosto. Siamo partiti il 7. Terzo giorno. Gekko cerca di arrampicare, se tra un po' arriverà il poliziotto lo caccerà. Gekko subito giù. Tosto, eccoci dicendo il contrario. Un barbone Gekko. Una famiglia Gekko. Tra poco entreremo qui dentro. Ti ricordo? Ok. Yeah! Questa è la gente ricercata. Non sa cosa ha fatto, però si è ricercata. Sino quelli con i vari denticchietti che non potrebbero essere. La cingeria del drago. Io l'ho guidato una sciacquata. Adesso vai al bagno, non ti preoccupare. Questa è la piacuppa. Questa è la man grosso dalla sciaccia. Ecco voi De Birman, famoso uomo d'Avola mentre prega una limita a Calde Grazie a tutti 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 Yeah Yeah Grazie a tutti 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 Grazie a tutti